Buonasera e benvenuti a tutti. Sono Giovanni Belfiori, l'ideatore e il direttore di Passaggi Festival e questo appuntamento, come dire, fuori festival, il festival d'estate, è il nostro modo che abbiamo pensato per fare gli auguri di Natale. Gli auguri di Natale un po' a tutti quelli che ci vogliono bene, quelli che ci seguono, quelli che ci danno una mano. Devo dire però che vedere questo teatro pieno è per me emozionante, quindi la prima cosa che voglio dire è grazie, perché un teatro così insomma è una cosa meravigliosa. Vi rubo soltanto un minuto insieme alle persone che sono salite con me veramente. Perché Passaggi di Natale? Davvero per fare gli auguri, per fare gli auguri a chi ci segue, chi dalla prima edizione, chi magari da quest'anno, gli auguri agli sponsor, gli auguri agli amministratori comunali, regionali e gli auguri soprattutto a voi che ogni estate, chi da prima, chi dopo, viene al festival a seguire i nostri eventi. E per fare gli auguri abbiamo pensato di invitare un grande giornalista, giornalista, saggista, opinionista tv, appunto Aldo Cazzullo, che ha scritto un libro che secondo me è un regalo meraviglioso da fare a Natale con la dedica dell'autore, perché è un libro familiare. Familiare perché parla della famiglia, è una conversazione tra il padre, Aldo Cazzullo, e i figli. Ma familiare anche perché? Perché è un libro che parla di qualcosa che c'è consueto, il cellulare. E quindi in questo confronto tra il padre e i figli ci possiamo ritrovare, credo, ciascuno di noi. E quindi spero che sia un bel incontro. Detto questo, poi lasceremo subito la parola ad Aldo Cazzullo, invece di fare i soliti saluti, quelli che si fanno all'inizio di ogni presentazione, di ogni evento, noi oggi vogliamo fare semplicemente una cosa, gli auguri di Natale. Quindi adesso passerò il microfono a ciascuno di loro e vi faremo i nostri auguri. Io non so cosa diranno e quindi li sentiremo insieme. Allora, Katia Amati è la Presidente della Fondazione Teatro. I tuoi auguri di Natale. Un 2018 sempre a teatro. Auguri. Vi presento, Stefano Marchegiani, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura. Grazie, buonasera a tutti. Vi auguro un Natale e un 2018 pieno di pace e di prosperità, come si dice, anche chiaramente queste sono frasi che vanno rifatte, i desideri non realizzati che si possono concretizzare, ma anche un anno nuovo in cui il rispetto reciproco e la solidarietà siano sempre più protagonisti e anche ovviamente una manciata di sogni e di sfide che consentono a tutti di avere quella spinta che ci consente insieme di migliorare il mondo e la nostra vita. Tanti auguri. Grazie. Renato Claudio Minardi è il Vice Presidente del Consiglio della Regione Marche. Anche lui è un amico di passaggi della prima ora. Renato, i tuoi auguri. Tantissimi auguri a tutti voi, alle vostre famiglie per delle feste veramente serene e per un prospero 2018. Vorrei riprendere una frase del libro di Aldo Cazzullo. Il telefonino e la rete sono il più grande rincoglionimento della storia dell'umanità. Ecco, questa deve essere la riflessione che voglio lasciare a tutti quanti voi, perché da una parte abbiamo il digitale, la rete, i social che ci sono ormai impossessati di tutti quanti noi. Dall'altra c'è ovviamente la modernità di cui non possiamo più farne a meno. Dall'altra parte però c'è bisogno di recuperare i rapporti, i rapporti umani, i rapporti quelli di tutti i giorni che invece di stare con il telefonino in mano ci dovrebbero consentire di dialogare, di stare al ristorante magari parlando anziché con il telefonino in mano perché lo facciamo tutti quanti. Ecco, e c'è anche una parte dell'umanità che non ha questa capacità, questa parte, una parte del pianeta che non ha le informazioni che abbiamo noi attraverso la rete. Ecco, facciamo in modo che tutti possano avere queste informazioni, che possano avere queste opportunità, facciamo in modo che il digitale non ci faccia diventare virtuali. Ecco, questo è l'augurio che posso fare a tutti quanti voi, il digitale è un'opportunità ma facciamo in modo che non diventiamo virtuali. Grazie Renato Milardi. Probabilmente questa non la conoscete. Lei è Nicoletta Bencivenni ed è la Presidente Nazionale delle Librerie Coop. È una grande amica di passaggi perché? Perché il festival lo organizziamo insieme. Quindi Nicoletta, i tuoi auguri. Troppo buono. Sì, tanti auguri e un anno pieno di libri. Sono ovviamente di parte. L'Italia si sa è un paese che legge poco, pochissimo, però anche di recente è uscito un rapporto da parte dell'Associazione Italiana e degli editori che dice che i festival sono le manifestazioni più gradite ai lettori, sono in grande sviluppo, catalizzano l'interesse e l'apprezzamento dei lettori e anche di nuovi lettori. Quindi convengo con te che vedere tutta questa gente, d'altra parte poi la vediamo sempre anche a giugno, riempire la piazza, veramente ci fa sperare che la lettura torni ad essere un bel passatempo. La dico, faccio mio le parole di Umberto Eco che diceva che leggere ci allunga la vita perché oltre a vivere la nostra viviamo anche le vite degli altri. Quindi buona lettura a tutti. Grazie Nicoletta. Rosetta Fulvi, presidente del Consiglio Comodale di Fano, i tuoi auguri? Allora, auguriamoci tutti insieme di amare la vita ogni giorno con la curiosità di un bambino che sfoglia il suo libro, il primo libro per la prima volta e soprattutto auguriamoci di recuperare il valore, la bellezza e la forza delle parole le parole sono potenti, magari lasciando anche andare il cellulare e con le parole più semplici che conosco, auguro a voi tutti e alle vostre famiglie un bellissimo Natale e un 2018 generoso e pieno di promesse. Grazie anche a Rosetta, a lui lo lascio per ultimo. Cesare Carnaroli è quello che ha iniziato con me l'avventura nel 2013, presidente di Passaggi Festival. Cesare, i tuoi e i nostri auguri? Io direi che gli auguri innanzitutto ai presenti, ma al festival, a Passaggi Festival e in modo particolare che i contributi per il prossimo anno raddoppino, questo che è il più bello auguro che si può fare. Poi, scusate un breve passaggio, ma secondo me ci vuole, in questo momento auguri al sindaco di Pesaro, che in questi giorni ha subito minacce da parte di personaggi anonimi e quindi come auguri da parte di Passaggi Festival. Grazie. Allora, fuori, oltre alla libreria dove potrete comprare il libro e farvelo dedicare come appunto ottimo regalo di Natale, avete anche i panettoni di Guerrino, non è qui sul palco, però io gli auguri li faccio anche a nome suo, quindi auguri anche da parte della pasticceria di Guerrino e c'è anche il tavolo di Amici di Passaggi Festival, che è un'associazione che sostiene il festival, il presidente Giovanni Di Bari, ci si può tesserare lì fuori, a te gli ultimi auguri, prima di ricedere la parola a Cazzullo. Bene, buonasera a tutti, innanzitutto... Oh, un attimo, mi scuola la cellula. Avete già, forse incominciate a capire che Amici di Passaggi è un gruppo animato da persone che hanno voglia di sostenere il festival e hanno voglia di dare una mano a questa avventura scellerata che sta durando dal 2013. L'associazione Amici di Passaggi vi augura un buon Natale, un buon anno, ma la cosa più importante è quella che diceva Giovanni, usciti da qua vi prego di tesserarvi. Perché? Perché Amici di Passaggi, se gli amici sono 4, 5, 6, 10, non fa forza. Se invece sono tanti, supporta il festival e supporta questo bellissimo evento che la città di Fano promuove da qualche anno. Grazie e buono spettacolo. Allora, io vi auguro semplicemente buon Natale e buon anno, quindi a tutti quanti. E chiamo subito sul palco i lettori, Francesco Belfiori e Carolina Iacucci. e adesso vi pregherei di fare davvero un grande applauso a Aldo Cazzullo. Buonasera, buonasera. Ciao, buon lavoro. Buonasera, grazie. Non è possibile che quando andiamo in pizzeria, anziché i vostri volti, mi veda sempre davanti i vostri cellulari. Non è possibile che quando entriamo in albergo, come prima cosa voi due, Francesco e Rossana, chiediate quale password sia quella dell'albergo. Non è possibile che ovunque si vada all'estero in Liguria dai nonni voi due vi portiate dietro il vostro piccolo mondo, chiuso nel telefonino. Vi ricordate quella gita in Provenza? Oh, i campi di lavanda in fiore erano bellissimi. Ma voi non li guardavate. Eravate sempre chini sui cellulari. Vi ricordate domenica scorsa a casa dei nonni? Eravate assenti, distanti, tutti presi dallo smartphone. Ed è un peccato, perché l'amore a cerchio di vita tra i nonni e i nipoti è meraviglioso. Si vive con lo specchio in mano. Siete una generazione con lo sguardo basso. E l'immagine riflessa su cui siete chini è sempre la vostra. Non ve lo dico come polemica, ma con l'infinito amore è un po' di preoccupazione. Perché vedo in voi i primi sintomi della malattia che ha già contagiato per primi noi adulti. Il narcisismo di massa. Spero che ormai vi sia chiaro. Il cellulare in realtà è uno specchio. Fateci caso. Le donne non girano più con lo specchietto nella borsa per controllare il sorriso e il trucco. Hanno il cellulare. Con la telecamera incorporata. Ma non solo quello. Narciso almeno doveva andare al fiume per rinnamorarsi ogni volta di se stesso. Voi, ma dovrei dire noi, abbiamo sempre il cellulare a portata di mano. Non riusciamo a stare senza per cinque minuti. E lo usiamo per far sapere agli altri quello che facciamo, pensiamo, mangiamo, beviamo, sogniamo. Ma in realtà stiamo parlando da soli. Perché agli altri di noi non importa nulla. in rete tutti chiacchierano, molti gridano, qualcuno insulta, minaccia, calunnia e nessuno, nessuno ascolta. alla disperata ricerca di attenzione e aiuto, tanti ragazzi affidano a YouTube e ai social le loro cose più intime, talora vergognose, come naufraghi che infilano il messaggio nella bottiglia e la affidano alle onde dell'oceano, fiduciosi che la portino nelle mani di un soccorritore, che però non c'è. Sapete quali sono le occupazioni a cui in media si dedica più tempo online? Il porno e i videogiochi. Tutte cose che si fanno da soli. Solitudine. Solitudine è altro che social. La rivoluzione digitale è il più grande rincoglionimento di massa della storia nell'umanità. distrugge un patrimonio di cultura e di civiltà. Secoli di letteratura, arte, musica entrano nel cellulare, vengono fatti a piccoli pezzi e gettati in aria come coriandoli. Il meglio di quel che l'uomo ha scritto, dipinto, composto, pensato viene triturato e ridotto a frammenti destinati a perdersi nell'oceano delle sciocchezze e delle falsità. Non vedo libri, giornali, DVD, CD in mano ai vostri coetani. e neppure ai trentenni. Non vi vedo al cinema, a teatro, all'opera o allo stadio perché un film dura due ore. Una partita a 90 minuti più recuperi. I filmati su YouTube durano pochi secondi e dopo pochi secondi vi hanno già annoiato. Noi, no, noi non eravamo sempre connessi. e questo ci ha dato modo di esercitare la memoria, la fantasia. E non avevamo Wikipedia e questo ci ha allenato, sì, la memoria. Non eravamo prigionieri della rete come criceti nella ruota e questo ci ha insegnato ad assaporare il tempo e a volte persino la noia. Certo, anche noi genitori siamo iperconnessi come è scritto al TAN è record ogni cellulare possiede un italiano. Ma per un bambino o un adolescente l'ossessione di essere sempre online può diventare un pericolo ancora più grande perché così si rischia di assuefarsi alla vita virtuale prima ancora di aver cominciato a vivere quella vera. Papà, non è possibile che tu non ci abbia dato retta. Te l'avevamo detto in tutti i modi di non scrivere questo libro. Finirai per farti odiare dalla nostra generazione e anche dalla tua. Noi non metteremo via il cellulare almeno non quando ce lo dici tu. Ogni rivoluzione ha avuto i suoi haters, i suoi odiatori. I luddisti volevano distruggere i telai a vapore. Il treno era un'opera di Satana. C'erano quelli che volevano viaggiare in automobile, quelli che rifiutavano di salire sugli aerei. La rete per la nostra generazione è parte essenziale della vita e questo vale anche per te visto che sei sempre chino sul cellulare. La rete è lo spazio della libertà, offre tantissime occasioni, leggere gli scrittori che preferisci, ascoltare la musica che ti va in qualsiasi momento, parlare con una persona di cui senti la mancanza, soprattutto conoscerne di nuove. e il telefonino può aiutarti a stare meglio anche con la persona che hai di fronte. Quante volte siamo andati a cercare su Wikipedia il nome che non ricordavi? Ci siamo visti un gol in diretta, abbiamo salutato i cuginetti su Skype. Non è vero che il telefonino ci isola dal mondo, ce lo crea. Possiamo decidere di stare soli o possiamo decidere di stare con gli altri. Possiamo spegnerlo e uscire con gli amici o confrontarci con gli stessi amici stando a cena. Ormai c'è indispensabile per studiare, per leggere, per scrivere. Anche a scuola si è usato bene. Tra l'altro in Provenza non saremmo mai andati se non ti avessimo mostrato su Instagram le foto della fioritura della lavanda. Tu non sapevi neppure che esistesse. Non è vero neppure che la rete distrugge il lavoro. Lo cambia. In futuro ci sarà qualche posto noioso e ripetitivo in meno perché quel lavoro lo farà la tecnologia per noi. Ma ci saranno molti posti creativi perché la rete si rinnova di continuo, reinventa tutto, collega mondi e ne costruisce di nuovi e renderla più umana sarà la sfida della nostra generazione. Buonasera, grazie innanzitutto, grazie per avermi dato l'opportunità di scoprire un teatro così bello. Io amo molto presentare il libro a teatro o anche tratto degli spettacoli teatrali da alcuni dei miei libri ma un teatro così bello non l'avevo mai visto. Quindi grazie davvero per avermi invitato, grazie a coloro che organizzano il festival, all'amministrazione comunale di Fano, grazie a tutti coloro che fanno vivere questo teatro e a tutti quanti voi. Ecco, io ho intitolato il libro Metti via quel cellulare perché è la frase che ho detto più spesso nella mia vita in questi ultimi sette, otto anni da quando ho preso il cellulare ai miei figli. Ma loro il cellulare non lo mettono via mai, mai, neanche per mangiare. Le cene in famiglia non sono più cene in famiglia, le serate in pizzeria non sono più serate in pizzeria, sono lotte, battaglie perse in partenza contro il cellulare. Se proprio a casa li costringe a lasciarlo in camera almeno per mangiare, si abbuffano in 50 secondi e poi tornano a riprendere in mano il cellulare o l'iPad, a volte insieme il cellulare e l'iPad. E noi gliel'abbiamo preso da piccoli perché pensavamo che almeno sarebbero stati sempre reperibili, ma loro al cellulare non rispondono mai. Mai, è vero o no? Dice, ma ce l'hai sempre in mano? E no, ma era silenzioso. Perché la differenza proprio generazionale è che per noi il cellulare è un telefono. Ci ricordiamo i primi telefonini apparvero durante il Mondiale d'Italia 90, veramente un'era fa. Erano enormi, si portavano nella cintura come pistole nella fondina, ridevamo di quelli che tenevano la suoneria troppo alta, che urlavano nel telefono, pensavamo che fosse una cosa un po' volgare e che noi mai ci saremmo finiti dentro. Invece non soltanto ci siamo finiti dentro, ma nel frattempo il cellulare è diventato un computer, è diventato un trampolino da cui i nostri figli e anche noi ci gettiamo in questo mare immenso, affascinante, procelloso che è la rete. Il cellulare sta cambiando tutto, il libro comincia parlando della vita in famiglia, ma poi ci siamo resi conto insieme con i ragazzi, perché ho voluto fare un dialogo, non una predica, perché i dialoghi sono sempre più utili delle prediche. Ebbene, mi sono reso conto, ci siamo resi conto che il cellulare sta cambiando tutto. La rivoluzione digitale cambia la vita in famiglia, a scuola, le relazioni tra le persone, ci si parla via Whatsapp con le faccine anche tra persone che sono sedute accanto. Sta cambiando l'economia, la società, la politica. La rivoluzione dei social è qualcosa di enorme. Il bullismo prima finiva in una classe, oggi diventa virale, parola orribile che evoca virus, contagio, malattia. L'altro giorno ho presentato il libro a Monfalcone in Friuli e alla fine è venuto un agente della polizia postale che mi ha detto sa qual è la prova d'amore che chiedono molti ragazzini alle ragazzine oggi? Una foto intima che la ragazzina ingenuamente manda, il ragazzo meno ingenuamente magari la condivide con gli amici per farsi bello o magari per vendetta dopo che la fidanzatina li ha lasciati, le mamme vanno alla polizia postale a dire adesso voi dovete bloccare la foto, i poliziotti poverini scrivono a Facebook che sta in America e che neanche risponde e il risultato è che le foto girano. Io mi ricordo la mia vicina di banco aveva, di cui ero ovviamente perdutamente innamorato, aveva un diario chiuso con il lucchetto e io sognavo di leggere quello che c'era scritto dentro e non ci sono mai riuscito e forse è stato meglio così perché magari ne sarei stato deluso. Ebbene, non voglio rimpiangere il lucchetto però di sicuro dovrebbero essere forse tutti i ragazzi prima di affidare le loro cose più intime YouTube dovrebbero tenersi più da conto, dovrebbero considerare che loro sono preziosi, non devono mai sottovalutarsi, le ragazze soprattutto sono la cosa più bella che c'è sotto il cielo, sono la meraviglia del creato, prima di mettere in comune, mettere in rete, devono stare molto attenti perché in rete non sono tutti amici, parola equivoca, la rete non è buona, la rete a volte diventa un colosseo digitale dove persone in fondo fragili fanno del male e si accaniscono su persone ancora più fragili. Poi però i miei figli mi rispondono e mi dicono intanto appunto papà tu sei l'ultima persona che può parlare perché anche tu sei sempre chino sul cellulare, il cellulare a volte diventa un alibi per voi adulti che non riuscite più a parlare con noi e quindi ci date il cellulare un po' come da piccoli voi venivate messi davanti alla televisione ma la responsabilità di quello che siamo rimane vostra, tocca a voi adulti, a voi zii, genitori, nonni, insegnanti, trasmetterci come dire, interessi, valori, passioni e questo è vero il cellulare per fortuna non sostituirà mai il genitore e l'educatore e poi loro mi dicono guarda che la rete papà può diventare anche un rifugio per ragazzi fragili che non si sentono accettati dai compagni di scuola nella vita vera e scoprono in rete di non essere soli, scoprono che ci sono tante persone che pensano e sentono come loro. Non so se qualcuno di voi ha visto il video del ragazzino bullizzato che racconta tra le lacrime quello che ha subito. Quello è un esempio di come la rete possa anche servire a denunciare, come possa servire anche a chiedere aiuto. Le rivolte contro i tiranni di destra o di sinistra Erdogan a Istanbul Maduro in Venezuela sono nate sui social. Quando il terrorismo islamico ha colpito al concerto di Manchester il concerto di Ariana Grande una cantante che io non avevo mai sentito nominare ma che per i ragazzi è importante il concerto era pieno di teenagers che si sono aiutati sui social non tanto Twitter o Facebook di cui parliamo soprattutto noi adulti quanto Snapchat e Instagram e si sono scambiati messaggi di solidarietà ti porto via io ti salvo la vita ti porto a casa ti do un passaggio quindi la rete può anche essere usata bene la rete in questo forse hanno ragione i miei figli non è né buona né cattiva in sé la rete siamo noi la rete come noi la rendiamo renderla umana sarà la sfida della loro generazione Rossana mia figlia che ha 17 anni mi ha raccontato di un bambino autistico inglese Adam che è uscito di casa per la prima volta in vita sua per giocare a Pokemon Go vi ricordate quel giochetto che io consideravo un crimine contro l'umanità l'estate del 2016 vi andavamo girare questi ragazzini chini sul cellulare a caccia di mostri immaginari rischiando di finire sotto le macchine però quel ragazzino grazie a Pokemon Go è uscito di casa non l'aveva mai fatto e ha scoperto che esistevano gli altri che esisteva la vita io sono molto preoccupato dal livello di odio di livore di rancore che c'è nella rete perché il cellulare in realtà è uno specchio e l'immagine su cui siamo riflessi è sempre la nostra su cui siamo chini è sempre la nostra vogliamo far sapere al mondo quello che abbiamo appena mangiato o bevuto quello che abbiamo visto quello che pensiamo e siccome al mondo di noi non importa molto questo genera frustrazione si va alla ricerca dei like e siccome nessuno ascolta tutte sentono il bisogno di alzare la voce quasi nessuno comincia una discussione in rete dicendo non sono d'accordo con te si comincia spesso insultando minacciando denigrando e le fake news le notizie false saranno sempre più lette delle notizie vere però Francesco mio figlio che ha 20 anni mi risponde papà prendi esempio da Montolivo il calciatore del Milan che si è rotto la gamba ha ricevuto solidarietà ma ha ricevuto anche insulti minacce devi morire e lui ha risposto su Facebook una carezza anche a quelli che mi hanno augurato la morte e in questo modo ha disarmato gli odiatori e li ha sconfitti poi i miei figli mi rifacciano che io sono stato meno brillante quando invece mi hanno aggredito i giocatori di videogame avevo fatto una rubrica su Io Donna il settimanale del Corriere che esce il sabato una rubrica si chiama quello che gli uomini non dicono quella volta ero andato un po' fuori tema avevo fatto una rubrica sui videogame stanco di vedere mio figlio sempre chino sull'iPad o sul cellulare ho detto ragazzi attenzione mamme diamoci da fare perché i marzianetti ci stanno portando via i figli i videogame danno dipendenza di solito queste rubriche su Io Donna hanno 30-40 commenti quella volta nel giro di pochi minuti sono arrivati 400 commenti che sono ancora lì indelebili 5 erano mamme preoccupate come me per i loro figli altri 5 erano giocatori di videogame che mi auguravano come a Montolivo di morire ma non subito bensì tra atroci tormenti però motivavano questa maledizione dicendo guarda che non ci sono più i marzianetti come i tuoi tempi oggi i videogame sono interattivi sono creativi gli altri 390 si limitavano ad augurarmi la morte senza aggiungere altro erano tutti maschi nessuno di loro avevo letto Io Donna tutti avevano letto un post che qualche custode dei videogame aveva messo in rete e tutti firmavano molti firmavano con il nome del personaggio del videogame preferito qualcuno aveva la foto del profilo del personaggio aveva come foto del profilo la foto del personaggio del videogame preferito mi ha molto colpito questa cosa comunque i miei figli mi hanno convinto su molti punti c'è un punto su cui invece resto convinto di aver ragione io il fatto che la rete non è gratis i miei ragazzi mi dicono guarda che papà la musica è gratis Whatsapp è gratis mio figlio passa la domenica a giocare a fantacalcio via Whatsapp ma in realtà nulla è gratis c'è sempre un prodotto che viene comprato o venduto e quel prodotto siamo noi la rete sa tutto di noi sa dove andiamo in vacanza sa quali prodotti compriamo sa se ci piacciono le bionde o le brune o i biondi o i bruni e ogni volta che acquistiamo un prodotto online subito ce ne propone un altro forse potrebbe interessarti anche questo e poi rivende le informazioni su di noi alla pubblicità la rivoluzione digitale è la prima nella storia dell'umanità in cui i padroni sono considerati i buoni nella rivoluzione industriale i padroni erano i cattivi gli sfruttatori i capitalisti manchesteriani si orparonda le belle braghe bianche fuori le palanche in America erano i padroni delle ferriere che facevano sparare sugli operai in sciopero dalle milizie private e poi si lavavano l'anima aprendo istituzioni benefiche o gallerie d'arte i fricchi i Vanderbilt i Rockefeller oggi noi baciamo la mano riconoscenti a questi miliardari californiani che consideriamo dei benefattori ma è più un lavoro che distruggono che quello che creano è vero che è comodo ordinare un libro o un'altra cosa su Amazon ma dietro il commercio tradizionale c'è un mondo c'è un rappresentante un grossista un camionista un negoziante un commesso un libraio io sono molto solidale con i librai quando chiude una piccola libreria chiude un pezzo di mondo chiude un luogo di incontro dietro Amazon c'è un braccio meccanico non soltanto ma i padroni della rete sono anche i padroni delle anime stanno accumulando un enorme potere ricchezza ma soprattutto informazioni e il mio modo di vedere dovrebbero spendere una parte dei loro immensi proventi per impedire che attraverso i social vengano commessi reati almeno le cattiverie e le falsità dovrebbero essere rimossi senza considerare le tasse Facebook ha annunciato sì pagheremo le tasse là dove facciamo gli utili ma questo dovrebbe essere il minimo è una cosa stabilita dalla legge non è una concessione sapete quanto ha pagato di tasse Facebook l'ultimo anno 2016 267 mila euro in Italia li pagano in paesi dove le tasse sono molto più basse beati loro Airbnb il più grande albergo del mondo ha pagato in Italia 60 mila euro di tasse come una pensioncina TripAdvisor che ha distrutto il mercato delle guide gastronomiche i critici ha pagato in Italia 12 mila euro come un pensionato eppure noi li consideriamo dei benefattori io ho intervistato Bill Gates che è un po' il nonno della rivoluzione digitale non mi è piaciuto mi aspettavo una specie di Leonardo da Vinci dei nostri tempi è un businessman parla sempre di soldi ne ha fatti tanti li spende bene vuole eradicare la malaria dal Kenya e dall'Etiopia però intanto ha accumulato un patrimonio personale che è superiore a quello di tutti i kenioti di tutti gli etiopi messi assieme indietro non si torna non si ferma il vento con le mani la rete è ormai indispensabile i cellulari sono indispensabili però dobbiamo usarli bene forse anche usarli un po' meno e un po' meglio dicevamo prima di come è cambiata la cultura adesso oggi siamo in un teatro pieno per me è un'enorme emozione tante volte mi sono trovato in teatri semivuoti in cui più giovane ero io che ho 52 anni o magari è terribile il momento più bello del teatro è quando viene buio quando si spengono poco per volta le luci momento rovinato dal fatto che tanti lasciano ormai il display del cellulare acceso la cultura cioè tutto quanto tutto quello che l'uomo ha pensato composto scritto dipinto in questi secoli il novecento è stato il secolo del cinema e nella seconda metà della televisione oltre che dei giornali l'ottocento è stato il secolo dei grandi romanzi i russi e i francesi Talstoi Dostoievski Balzac Zola il settecento era stato il secolo del teatro Molière e Goldoni ecco tutto questo viene fatto pezzetti dalla rete e gettato in aria come coriandoli i miei figli mi dicono papà i coriandoli arrivano dappertutto una canzone oggi è più ascoltata di un tempo un articolo di giornale più letto che non una volta e hanno anche ragione però poi se nessuno compra il giornale i dvd i libri è chiaro che prima o poi l'industria culturale non c'è che assumere o precarizza o prepensiona non è anche questa una cosa positiva i miei figli mi dicono papà se tu vai su youtube poi i miei figli non sono i veri nativi digitali però hanno 17-20 anni i veri nativi digitali sono come mio nipotino figlio di mio fratello Claudio che ha 4 anni non sa leggere non sa scrivere ma già usa l'iPad e l'iPhone l'altro giorno è venuto un signore a dire fiero mio figlio ha già scritto la prima parola ha solo 3 anni ma sa leggere no però ha digitato la sua prima parola sul cellulare non ha scritto mamma non ha scritto papà ha scritto youtube ecco se andate su youtube mi fanno notare i miei figli vedrete che la quinta di Beethoven diretta da Claudio Abbado ha 170.000 visualizzazioni sono tutti giovani che senza il cellulare senza la rete non saprebbero neanche che Claudio Abbado è vissuto è vero però se vedete Gangnam Style quel balletto un po' sciocco di come si chiamava Psy il sudcoreano di visualizzazione ne ha più di 3 miliardi però sono numeri che in effetti non vogliono dire molto più di nulla e per dimostrarlo voglio raccontarvi un episodio che c'è nel libro che risale qualche libro fa però in realtà La guerra dei nostri nonni è un libro che ho scritto sulla grande guerra cent'anni fa in questi stessi giorni i nostri nonni i nostri bisnonni andavano al Piave per resistere per salvare l'Italia e l'Italia nacque allora nelle trincee eravamo un popolo giovane non ci capivamo neanche tra di noi mio nonno era un ragazzo del 99 parlava solo di aletto piemontese magari con i vostri nonni si sarebbe capito ma con un sardo con un siciliano magari neanche si capivano e l'Italia poteva essere spazzata via e invece dimostrò di essere un fatto compiuto non più un nome geografico come la chiamavano gli austriaci ma un popolo una nazione e il personaggio che racconta meglio questa storia è un poeta Giuseppe Ungaretti Ungaretti amava l'Italia ma non c'era mai stato era nato ad Alessandria d'Egitto poi era andato a Parigi ed è soltanto con l'uniforme italiano addosso che lui si sente come nella culla di suo padre parte volontario fa il corso ufficiale ma non lo supera viene giudicato inadatto al comando e farà tutta la grande guerra da soldato semplice lui che aveva già trent'anni accanto ai fanti diciottenni come mio nonno che lo adoravano lo chiamavano signore e facevano a gara portargli lo zaino e il fucile lungo le marce e un giorno alla fine di una marcia Ungaretti si lasciò cadere a terra per riposare passò di lì un sottotenente che si chiamava Ettore Serra e Ungaretti non lo salutò per molto meno si poteva essere fucilati il generale Andrea Graziani da Bardolino fece fucilare un fante toscano Alessandro Ruffini perché l'aveva salutato senza togliersi la pipa di bocca qualcuno dice un sigaro dopo la guerra quel generale fece una brutta fine fu gettato da un treno in corsa da mani rimaste misteriose invece il sottotenente Serra non soltanto per fortuna non fece fucilare Ungaretti ma ne fu incuriosito e gli chiese e tu chi sei? si aspettava la risposta d'ordinanza Ungaretti Giuseppe soldato quarto reggimento quinto battaglione invece Ungaretti disse fiero io sono un poeta e il sottotenente si mise a ridere ci mancava anche il poeta e che poesia è scritto e Ungaretti tira fuori un foglio dalla tasca glielo passa e il sottotenente legge mi illumino d'immenso si sta come d'autunno sugli alberi le foglie la morte si sconta vivendo di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto ma nel cuore nessuna croce manca è il mio cuore il paese più straziato al che il sottotenente tra secolo dice ma tu sei veramente un grande poeta hai scritto altre poesie e Ungaretti tira fuori dalle tasche altri fogli scritti a matita è l'unica coppia che ha delle sue poesie li passa a quest'uomo che non ha mai visto il quale si fa dare una licenza torna a casa li fa pubblicare e grazie a questa fortunata serie di coincidenze oggi noi possiamo leggere i versi di Giuseppe Ungaretti la prima edizione del Porto Sepolto fu stampata in 80 copie oggi Sofia Viscardi ha 2 milioni di follower di queste 80 copie soltanto 20 vennero vendute i balletti di Gianluca Vacchi su internet hanno decine di milioni di visualizzazioni ma questi numeri non vogliono dire molto più di nulla perché dei 3 miliardi di click fatti sul video di Gangnam Style non resterà traccia mentre il millumino di immenso non lo diciamo ai nostri nipoti i nostri nipoti lo diranno i loro nipoti e quindi Ungaretti anche nell'era digitale resterà per sempre non era facile neppure per noi comunicare con genitori e nonni la differenza di età era minore di adesso perché i figli si facevano da giovani ma tra le generazioni c'erano abissi scavati da guerre mondiali e guerre civili dalla fatica di ricostruire un paese a pezzi nelle vite dei nostri nonni e dei nostri genitori era successo di tutto il fascismo il comunismo i conflitti armati la guerra fredda ma non era cambiato nulla i valori restavano sempre gli stessi il modo di vivere e di pensare anche nel nostro tempo non è successo quasi nulla ma è cambiato tutto e la rete ha dato il colpo di grazia a un modo di vivere e di comunicare che aveva resistito per secoli qualsiasi forma di gerarchia dentro la famiglia è saltata l'educatore non è più il padre né tantomeno l'insegnante o il sacerdote è la rete i figli i figli non leggono i libri che avevano letto i genitori e aver letto gli stessi libri aver pensato e provato le stesse cose era stato il collante tra generazioni molto diverse noi siamo stati l'ultima a leggere Cuore e Pinocchio Sinuele Egiziano e Quovadis Saigari e Verne e poi francesi i russi Balzac Dostoievski a volte emozionandoci a volte sbadigliando per esaltare la resistenza del libro di carta si fa notare che il libro elettronico non ha mai sfondato è vero ma perché sull'iPad o sull'iPhone non si leggono libri ci si infina dentro in un labirinto dove le stesse canzoni sono ascoltate ossessivamente un post rimanda un altro post un link connette un altro link e andando nel vasto mare del web si va sempre da dove si è venuti io io vi capisco capisco la vostra generazione perché resistere alle sirene della rete non è facile neanche per noi che non ci siamo caduti dentro da piccoli come Obelix nella pozione magica ma l'abbiamo incontrata da grandi provate provate però anche a mettervi nei panni di un genitore che si trova davanti non un figlio ma la cover di un cellulare e le famigerate cuffiette non c'è nulla di peggio che stare in casa uscire per strada con uno spartito di suoni già scritto escludendo la possibilità di incontrare qualcuno o notare qualcosa comunicando al mondo esterno dai parenti agli estranei che nulla e nessuno vi interessa davvero una musica imprevista una parola dei vostri genitori la sorpresa di uno sconosciuto se non quello che avete già scelto e vi portate dietro rinunciando a qualsiasi altra possibilità bisognerebbe lasciare almeno un orecchio libero per ascoltare i rumori della città i suoni della vita vera papà continuo a lamentarti per questa storia dei libri ma noi continuiamo a ripeterti non è vero che esiste un divario così colossale tra le nostre letture e le vostre noi proviamo ad assecondare le tue raccomandazioni abbiamo anche letto cuore anche se onestamente è davvero noioso invece abbiamo amato la fattoria degli animali come Don Quixote chi ha detto che siete l'ultima generazione ad aver letto i romanzieri francesi a noi è piaciuta molto Eugénie Grande di Balzac oltretutto scaricata su iBooks un'applicazione del cellulare e non è come dici tu a frammenti il libro è tutto intero ed è gratis come la maggior parte dei classici i cellulari non vi impediscono di parlarci non ci rendono completamente alienati e incapaci di apprezzare gli stimoli che ci date sai che odiamo sentirci dire che usiamo i telefonini come una barriera per isolarci anche se a volte è più facile rifugiarci nei nostri piccoli mondi ed evitare il confronto diretto ma ma non devi pensare che lo smartphone possa sostituire la figura del genitore se mai spesso sono i genitori a utilizzarli per distrarre i loro figli come magari anche tu da piccolo venivi messo davanti alla televisione voi mantenete sempre il vostro ruolo fondamentale di trasmettere valori passioni e interessi la responsabilità di quel che siamo è vostra non del telefonino che semmai è il vostro alibi vi dicevo Francesco e Rossana non sono i veri nativi digitali noi abbiamo giocato a nascondino prima che alla playstation loro hanno imparato a leggere e scrivere prima che usare l'iPad o l'iPhone non so cosa accadrà ai nativi digitali che appunto usano prima l'iPad e l'iPhone che non la carta la penna non so se resisteranno ancora i libri è un enorme esperimento sono tutte delle cavie è una generazione che magari sarà meravigliosa però magari crescerà senza aver mai giocato a pallone con il papà dipende anche molto da noi dalla nostra capacità di parlare con i nostri ragazzi di piegarci sul solco delle loro vite di farci piccoli come loro di capire che argomenti magari che a noi sembrano trascurabili e lo sono davvero per loro però sono importanti anche perché la rivoluzione digitale incrocia l'altra grande rivoluzione del nostro tempo che è la rivoluzione dell'intelligenza artificiale siamo entrati nell'era della riproducibilità tecnica della vita l'uomo crea l'uomo o ha l'illusione di farlo clonazione e robot costruiremo degli uomini nuovi che avranno come cervello il computer e come memoria la rete sapranno molte più cose di noi saranno molto più intelligenti di noi ed è importante che continuino ad obbedirci a desiderare le cose che noi desideriamo è importante che siamo appunto noi i padroni della tecnologia e non viceversa e non finisca come in 2001 se nello spazio uno di quei film che la nostra generazione ha trovato straordinario ma che i nostri figli e nipoti trovano noiosissimi perché dura tre ore in tre ore loro hanno visto 300 filmati su youtube ricordate dove c'è al 9000 il computer di bordo che si ribella l'uomo e l'uomo riesce faticosamente a sconfiggerlo ma l'altro giorno Kasparov l'ex campione di scacchi che ora è un dissidente che combatte contro Putin lui aveva sfidato il computer 30 anni fa ma ha detto se adesso giocassi a scacchi contro un computer mi darebbe scacco matto in poche mosse vicino a Treviso c'è un campus riservato ai nativi digitali si entra a tre anni per fare l'asilo e si esce a 26 con il master un collega di Repubblica è andato a fare un reportage io cito nel libro alcuni racconti di questi ragazzi che studiano in questo campus per nativi digitali questa specie di accademia neoplatonica per i cervelli della nuova era digitale Marco 17 anni che si definisce studente e imprenditore il cambiamento corre e travolge invisibilmente tutti chi non è pronto quando passa il treno dell'economia digitale non sale più e paga il prezzo di svegliarsi nel cimitero del passato un'immagine da romanzo neogotico da film di Stephen King da notte di Halloween Andrea 16 anni allievo di visual graphic e matematica creativa la nostra vita si gioca in un istante teniamo il passo per una manciata d'anni poi se non ti circondi di teenager a 30 è già finita Manuela 17 anni scrittrice di mini storie pubblicitarie per smartphone impariamo dall'ignoto ciò che si sa non serve già più e questo è vero un floppy disk più vecchio della stella di Rosetta il fax doveva cambiarci la vita è un oggetto di modernariato lo stesso ipad non ha avuto la diffusione che pensavamo è già stato sostituito dal telefonino il telefonino ha preso il posto dell'orologio e della sveglia del navigatore e del lettore musicale della bussola ormai è una nostra protesi fa parte di noi della macchina fotografica della fotocamera non riusciamo più a farne a meno siamo tutti cyborg sapete cosa sono i cyborg sono esseri viventi con delle parti meccaniche il cellulare è la nostra parte meccanica e poi c'è un'intervista a un insegnante che insegna in questo campus un irlandese che si chiama Timothy O'Connell il quale dichiara se voi in Italia perdete posti di lavoro la colpa non è dei robot o delle aziende che delocalizzano la colpa è vostra di voi italiani è la lentezza del vostro cervello mal allenato fin dall'infanzia è un simpaticone questo irlandese è un'istruzione astratta che non indica al sapere la via del fare io per un attimo mi sono sentito in colpa di aver fatto fare ai miei figli scuole pubbliche ma poi ho pensato che invece è stato giusto così e che Platone quello vero l'avrebbe cacciato a pedate dalla sua accademia questo O'Connell e sono contento che i miei figli abbiano studiato cose astratte come la storia la filosofia l'italiano il latino però mi rendo conto che il problema di tenere la scuola al passo a quei tempi esiste e esiste il problema di rispondere alla grande domanda cellulare in classe sì o no e io sono solidale con gli insegnanti io ho scritto in un libro che gli insegnanti italiani sono tra gli italiani di cui possiamo essere orgogliosi perché hanno superato anni difficili per la scuola pubblica e mi sa che quegli anni non sono ancora finiti e poi c'è il problema del cellulare fatichiamo noi a togliere il cellulare a uno o due figli uno o due nipoti figuriamoci loro che ne hanno trenta di ragazzi davanti e Rossana mi dice guarda che l'altro giorno lei fa ancora liceo l'altro giorno non c'era una poesia sul libro l'abbiamo trovata sul cellulare benissimo però chi mi garantisce che tutti i ragazzi avessero davvero sul display del cellulare quella poesia e non magari un videogioco insomma il mio eroe è il professor Marcello Contento un siciliano di Alcamo che insegna però da anni a Prato in Toscana che ha proposto l'esperimento di una settimana senza internet non è che ha vietato il cellulare in classe gli ha proprio portato via per una settimana e poi ha raccolto queste reazioni Mario ho scoperto che esistono i cruciverba il sudoku e il telefono pubblico a monete Antonio ho fatto le parole crociate con mia mamma abbiamo passato un pomeriggio a chiacchierare non succede mai Francesca io ho parlato un'ora con mio padre e mio fratello non mi capitava da tempo Adele ho fatto tre ricerche al professore ho detto se lo tengo pure il mio telefonino Silvano ho letto due libri Marianna mi sono messa a parlare con la mia compagna di banco prima conversavamo via whatsapp anche se eravamo vicine e in effetti appunto come dicevamo prima tra vicini di banco si parlano con whatsapp con le faccine Amin è stata una delle settimane più belle della mia vita siamo andati alla fattoria al museo e abbiamo organizzato un aperitivo in centro senza social ne facciamo un'altra Silvia sono stata a cena un'ora con i miei genitori erano felicissimi perché io dico a Rossana lo saremmo anche mamma e dio ma non si sa perché tu Rossana tavola con noi stai sempre pochi minuti appena ci giriamo sei già in camera tua col cellulare e mia figlia mi risponde papà non ci credo neanche se lo vedo che una ragazza ha detto al professore di tenersi pure suo cellulare hanno scritto queste cose per farlo felice ma in cuor loro maledicevano al professore e non vedevano l'ora di riprendersi il loro cellulare chi è secondo voi il personaggio più interessante emerso nella politica mondiale nel 2017 secondo me Emmanuel Macron a 39 anni è stato eletto presidente della Repubblica Francese con un partito che fino a pochi mesi prima non esisteva provate a digitare Macron su internet le parole più ricercate accanto al suo nome sono gay e moglie il mitico popolo del web non vuol sapere chi sia cosa voglia fare perché abbia fatto suonare l'inno europeo prima della marsigliese vuol sapere se davvero ha sposato una donna più anziana di lui non perché la ama ma per nascondere di essere omosessuale chi è secondo voi il personaggio più interessante emerso nello spettacolo italiano nel 2017 secondo me Francesco Gabbani ha vinto il festival di Sanremo con una canzone geniale e si è inventato il tormentone dell'estate e di cosa discute la rete di quanto ce l'abbia lungo in alcune foto in effetti Gabbani pare super dotato in altre invece sembra avere sembra essere normale se non modesto ma vi pare un argomento di qualche interesse eppure appassiona molto se ne dibatte anche a proposito di Alberto Angela e di altri come quando eravamo bambini il punto è che la rete trasforma tutto non in oro ma in fango ci attraggono o le miserie o le stupidaggini come quando si rallenta in macchina perché nell'altra corsia c'è stato un incidente internet è l'incidente trasforma la tragedia in curiosità riesce a ridurre la più seria delle questioni a una sciocchezza o a un gioco neppure troppo intelligente abbiamo costruito un mondo in cui un videogame Candy Crash viene venduto per 6 miliardi di dollari una cifra con cui si potrebbero sfamare interi paesi africani un mondo dove i protagonisti della discussione politica non sono Trump Putin persone che potrebbero cancellare l'umanità dando l'ordine di un attacco nucleare no sono Paris Hilton Kim Kardashian Amber Rose prodigi nati da un incrocio tra palestra silicone e photoshop corpi scolpiti da personal trainer chirurghi estetici e maghi del computer favole post moderne persone che vivono una vita fiabesca grazie anche ai proventi del web scendono in alberghi a sette stelle si frequentano e si imparentano tra di loro così il fratello di Kim Kardashian ha fatto un figlio con Black China che in effetti è una nera con i tratti orientali ma poi si sono lasciati e così le sorelle di Kim Kendall e Kylie Kardashian per vendetta hanno postato una foto in cui viene viene da rivalutare il culto nostrano di Belen Rodriguez che ormai per gli italiani è una figura di famiglia un'amica sono sono queste le star del web famose per essere famose papà il nostro idolo invece è Salvatore Aranzulla un ragazzo di 27 anni di Mirabella in Baccari provincia di Catania appassionato di informatica autodidatta ha iniziato a fornire consulenze agli amici che gli chiedevano informazioni tipo come posso evitare che su Whatsapp il segno del messaggio ricevuto si colori di blu in modo da non far sapere che l'ho letto ora è diventato ricco vendendo in tutto il mondo manuali di informazioni e corsi per analfabeti digitali un po' come il maestro Manzi di cui ci raccontavi quando eravamo bambini che insegnò a leggere e a scrivere a molti italiani adulti anche per te papà non è mai troppo tardi va bene va bene prendetemi in giro da voi lo accetto ma dal telefonino no il telefonino mi fa davvero arrabbiare prendete il correttore automatico io sono ignorante ma lui ma lui lo è più di me prima ho scritto appunto Omero sullo smartphone e me l'ha corretto in morto poi in omelette Charles de Gaulle diventa Charleston del Grul la Shoah la Shoah ai ai Vasco Rossi per qualche misteriosa ragione diventa Asco ma cosa vuol dire Asco Renzi una volta è diventato Re Renzo cosa che forse non gli dispiacerebbe ma il correttore dell'iPhone deforma persino il nome del suo inventore Steve Jones viene storpiato in Jobson ora ho capito che il sistema cerca parole che ho già scritto o che magari trova nelle mie mail o nella mia rubrica ma l'altra sera Rossana ti ho scritto un messaggio per chiederti se ti eri esercitata su Chopin e il correttore automatico l'ha trasformato in Cuppini e io non conosco nessun Cuppini per ovvi motivi non posso permettermi ironie sui cognomi buffi ma perché un'intelligenza così sofisticata come il correttore automatico cambia Chopin in Cuppini oltre che ignorante è pure un po' tonto l'altra sera Francesco ti ho scritto su Whatsapp per proporre un burrito al messicano sotto casa l'ho scritto giusto ma il burrito mi è diventato prima nutrito poi nitrato poi nitrito basta Guppy Goldberg è in totale caduta libera terribile molto triste Arianna Huffington è un manichino un clown liberal Maureen Dowd è una matta una pazza nevrotica una giornalista noiosissima Angela Merkel sta rovinando la Germania tutto si può dire Massimo sta rovinando noi ma non la Germania Megan Kelly è malata di mente proprio disturbata è l'anchor woman più sopravvalutata al mondo Alicia Machado è la più brutta miss universo di tutti i tempi Meryl Streep è una lacchè di Hillary è l'attrice più sopravvalutata di Hollywood Hillary è bugiarda disonesta imbrogliona corrotta 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 il pianeta schiacciando un tasto e lo stesso Trump ha detto io non sarei mai diventato presidente degli Stati Uniti senza i miei tweet perché Trump è il personaggio perfetto per il tempo della rete in rete tutti i politici sono ladri tutti gli industriali sono corruttori tutti i giornalisti sono servi è un po' la notte in cui tutte le vacche sono bige però come non capire che se sono tutti colpevoli allora nessuno è veramente colpevole la rete crea un clima di livore di rancore in cui chiunque abbia un curriculum una storia un'esperienza diventa un ingranaggio del sistema dell'establishment noi diremmo della casta Hillary lo era un po' davvero così Hillary non era un candidato forte aveva già perso le primarie otto anni prima contro il primo politico americano a usare davvero la rete Barack Obama è stato molto bravo Trump a far a parire Hillary appunto come un vecchio ornese ma prima ancora Trump aveva sconfitto tutti i candidati del suo stesso partito voi sapete che i repubblicani l'establishment del partito repubblicano non voleva Trump perché lo considerava un candidato debole non aveva capito che Trump era un candidato forte perché ha tenuto tutti gli stati repubblicani e ha vinto stati dove grazie ai voti degli operai bianchi che votavano democratici che hanno votato il repubblicano lui ha vinto la Pennsylvania il Michigan il Wisconsin e Trump ha fatto i soldi nel modo più tradizionale costruendo palazzi a New York poi è diventato famoso grazie alla tv e grazie a uno show in cui diceva ai candidati you are fired l'italiano divente fuori e chi è che faceva il ruolo di Trump nella versione italiana Briatore perché il Trump italiano non è Berlusconi è Briatore Berlusconi prima di entrare in politica era già l'uomo più potente d'Italia aveva le tv aveva il Milan che vinceva le coppe dei campioni Trump era un outsider non lo hanno visto arrivare non lo hanno preso sul serio ridevano dei suoi cappelli dal colore introvabile in natura lo consideravano innocuo e quindi divertente e lui li ha fregati tutti e ha sconfitto dicevo prima di tutti quelli del suo partito Jeb Bush e Marco Rubio Marco Rubio doveva essere un po' l'Obama repubblicano è un senatore della California scusate no della Florida di origine cubane di solito i latinos votano a sinistra ma i cubani di Miami odiano Castro e quindi votano a destra Rubio però aveva un problema al complesso di essere piccolo Trump è alto più di un metro novanta e al dibattito televisivo per innervosire l'avversario Trump ha cominciato a chiamarlo Little Marco Marcolino al quarto Marcolino il povero Rubio ha perso la testa e ha detto una volgarità ha accusato Trump di averlo piccolo al contrario di Gabbani e Alberto Angela a quel punto aveva già perso perché se tu scendi il livello di Trump non puoi battere Trump e così Trump è diventato presidente noi invece abbiamo Beppe Grillo io Grillo l'ho conosciuto quando avevo 18 anni avevo ancora i capelli stavo d'Alba il mio paese e organizzavamo ogni anno ogni scuola organizzavo una veglia una festa dove veniva un cabarettista un cantante di solito arrivavano pochi minuti prima dell'inizio prendevano il cachet e facevano il loro show e poi se ne andavano Grillo arrivò il mattino volle passare tutta la giornata con noi voleva capire chi eravamo ci fece un sacco di domande voleva vedere come pensavamo come parlavamo e la prima cosa che ci chiese fu come si dice qua ad Alba Vaffa ad Alba Vaffa si dice in piemontese vai a fare la cacca a Roddi che è un paesino vicino ad Alba non so perché si dica così c'è questo modo di dire noi l'abbiamo spiegato a Grillo il quale ha sembrato quasi ha fatto finta di niente poi la sera è salito sul palco ha fatto l'elenco di tutti quelli che avevano chiesto il biglietto omaggio li ha fatti alzare in piedi il sindaco l'assessore il comandante dei carabinieri e poi ha detto in piemontese andè a Caghe a Rod è venuto giù il teatro degli applausi perché la star di fantastico della tv veniva nel paesino e si piegava sul solco parlava come noi ecco Grillo ha girato per decenni i teatri d'Italia per affinare questa tecnica dire alla gente quello che la gente vuole sentirsi dire e in questo modo ha fondato un movimento che è il primo partito italiano però i miei figli mi rispondono anche lì mi dicono papà anche noi come te pensiamo che Grillo non sia la soluzione però tu mettiti nei panni tanto Grillo è diverso da Trump intanto non è che nascono dalla rete nascono dalla crisi economica e dalla crisi della politica tradizionale tu mettiti nei panni di un ragazzo di 25 anni che si è laureato magari bene manda in giro il curriculum e nessuno gli risponde non trova lavoro se non precario mal pagato stagio gratuiti poi magari legge su un giornale cosa guadagna un parlamentare cosa prende di vitalizio è difficile che sia un entusiasta del governo che si riconosca in un partito tradizionale o che abbia fiducia in un politico che magari c'era già prima che lui nascesse e anche qui c'è un fondo di verità mentre i francesi hanno fatto una scelta molto diversa hanno eletto presidente proprio un uomo dell'establishment e Macron ha fatto l'ENA la scuola che da sempre seleziona le elite francesi ha lavorato la banca Rothschild il simbolo del capitalismo finanziario internazionale e in campagna elettorale ha fatto un comifio che ho seguito con le mie orecchie e ha detto questo episodio ha detto quando ero ragazzo io ero allievo di un grande filosofo il professore Paul Ricoeur il quale nel 68 prima che Macron nascesse era rettore dell'università di Nanterre vicino a Parigi dove esplose la rivolta del maggio uno studente ribelle prese la pubelle la spazzatura e la rovesciò in testa al filosofo col quale gli disse perché mi fai questo e il filosofo rispose perché non ti riconosco nessuna autorità su di me e il filosofo rispose la mia autorità su di te deriva dal fatto che io ho letto più libri ecco Macron è stato coraggioso a raccontare questo episodio in campagna elettorale andando incontro allo spirito del tempo contro l'elogio dell'ignoranza e poi ha proseguito ha detto non è possibile che chiunque voglia andare su internet a sparare la sua su argomenti di cui non sa nulla ci sono quelli che sanno e quelli che non sanno poi Macron ha aggiunto una frase stupida crudele che io non condivido ha detto ci sono quelli che hanno talento e quelli che non hanno talento io invece penso che ognuno di noi abbia il suo talento che per fortuna è diverso dal talento degli altri c'è chi sa recitare lasciatemi ringraziare Francesco e Carolina che sono stati veramente brevissimi c'è chi sa amministrare una città chi amministra un teatro chi organizza i festival e rinnovo i miei ringraziamenti il signore adesso mi porta a Roma guida per tre ore ha il talento di guidare una macchina c'è chi ha il talento di aggiustare circuiti elettrici non lo saprei mai fare c'è chi ha il talento di scrivere un libro magari chi ha il giusto il circuito elettrico non sa scrivere un libro ma il bello è essere diversi gli uni dagli altri senza la frustrazione senza il rancore l'importante è che la politica la scuola metta tutti nelle condizioni di riconoscere il proprio talento ed esercitarlo e questo oggi in Italia non accade e per questo l'Italia è un paese ingiusto troppi ragazzi italiani vanno all'estero e va bene se vanno a fare un'esperienza a imparare una lingua ma poi l'Italia deve creare le condizioni per cui chi desidera tornare possa farlo e oggi questo non accade i giovani hanno ragione ad essere arrabbiati ma l'altro giorno però alla stazione di Bologna dovevo cambiare un biglietto del treno e ho fatto la fila davanti a quei gabbiotti dove c'è scritto last minute e non si capisce perché non scrivo ultimo minuto in italiano dove di solito non si risolve mai niente invece c'era un ferroviere sveglio che ha preso il biglietto me l'ha cambiato mi ha messo sull'ultimo posto del treno che stava partendo e dandomi il biglietto nuovo mi ha detto ha visto come sono bravo? lo avrei abbracciato ecco un uomo che sa vivere che ha il gusto del lavoro ben fatto esercita il suo talento ed è contento così e il suo talento non è banale perché mettere la gente sui treni giusti vuol dire salvare vite amori famiglie pensate invece quanti amori sono finiti per via di Whatsapp perché abbiamo scritto sul cellulare una frase di cui ci siamo pentiti un secondo dopo ma era troppo tardi la sciocchezza che magari il nostro figlio il nostro nipote ha scritto stasera su Facebook tra dieci anni finirà nelle mani del datore di lavoro che farà loro il colloquio per questo bisogna stare molto attenti io ho concluso voglio di nuovo rinnovo il ringraziamento mi metto a disposizione di firmare le copie di chi lo desidera voglio ancora raccontarvi un ultimo episodio che riguarda proprio i rapporti in famiglia c'erano loro c'erano partigiani cattolici monarchici e c'erano soprattutto i civili le donne gli ebrei i carabinieri i 600.000 internati in Germania di cui non si parla mai che preferirono restare nel lager piuttosto che andare a Salò a combattere altri italiani fu fatta da militari da sacerdoti dalle suore c'era nella carcere di Milano San Vittore una suora la madre superiore si chiamava Enrichetta Alfieri che badava i carcerati si vide arrivare in casa la tempesta della storia il carcere si riempì di ebrei antifascisti che venivano torturati mandati ad Auschwitz e lei si schierò dalla loro parte non era comunista era una suora che fece il suo dovere e rischiò la vita per questo fu scoperta perché li aiutava li faceva uscire dal carcere venne condannata a morte devo riconoscere che si mosse il duce per impedire che venisse fucilata e poi fu fatta santa e al processo di beatificazione resero da loro testimonianza due prigionieri dei fascisti a San Vittore due pericolosi rivoluzionari Indro Montanelli e Mike Bongiorno Montanelli disse una cosa bellissima una cosa da brividi disse certe cose le possono fare solo i santi o gli eroi e suora Antonietta e suora Enrichetta erano tutte e due le cose ecco abbiamo letto i brani di quel libro davanti a 300 ragazze dell'ultimo anno dei licei di Cuneo città medaglia d'oro della Resistenza la città di Nuto Revelli di Giorgio Bocca di Duccio Galimberti erano attenti affascinati commossi ma proprio non sapevano di cosa si stava parlando allora per coinvolgerli ho detto fra l'altro si davano la maturità davano la maturità quei ragazzi erano i 70 anni della Resistenza tutti sapevano che ci sarebbe stato un tema sulla Resistenza che poi è uscito solo il 2% dei ragazzi italiani l'ha fatto bene per coinvolgerli ho chiesto ragazzi chi di voi sa chi è Indro Montanelli uno solo su 300 ha alzato la mano ha detto un giornalista poi ho chiesto chi di voi ragazzi sa chi è Mike Bongiorno e nessuno alzava la mano dico ragazzi non è possibile avete 20 anni mi fate non sapere chi è Mike Bongiorno anche uno ha detto un comico no forse un comico involontario però non un comico allora uno ha detto un presentatore televisivo giusto reduttivo Mike Bongiorno è il papà delle televisioni italiane sia della RAI che di Mediaset però esatto poi abbiamo letto un brano sulle fosserdeatine e anche lì i ragazzi si guardavano l'un l'altro con la faccia stupita allora ho chiesto chi di voi sa dirmi cosa è successo alle fosserdeatine e non uno su 300 ha alzato la mano al che io ho pensato ma io da quanto tempo è che so cosa è successo alle fosserdeatine ma da sempre e senza nessun merito da parte mia mio nonno non il ragazzo del 99 nonno macellaio appunto non era uno storico era un macellaio però mi raccontava per ore della sua giovinezza grandiosa terribile Hitler Stalin Mussolini le vendette partigiane perché ci furono anche quelle ed è bene che se ne parli e le fosserdeatine è una storia che si racconta in 10 secondi 33 tedeschi morti a Roma ogni tedesco 10 italiani 335 italiani uccisi con un colpo alla nuca nelle cave sulla via delatina le fosserdeatine ecco questi ragazzi non hanno avuto un nonno che gli raccontasse questa storia o forse l'hanno dimenticata o forse non sono andati su google a digitare fosserdeatine che so quando Mattarella come prima cosa appena letto capo dello stato è andato alle fosserdeatine perché su google trovi qualsiasi cosa ma devi anche saperla cercare per questo che è importante perché parlarsi tra generazioni ecco cerchio di vita nonni nipoti zi nipoti insegnanti e allunni genitori e figli ma anche lì i miei figli mi hanno spiazzato mi hanno raccontato qualche giorno fa non c'è nel libro questa storia che le nonne che sono rimaste ad Alba al nostro paese adesso noi viviamo a Roma le nonne hanno imparato a usare whatsapp apposta per comunicare con i nipoti i nonni stanno ancora imparando ma come è noto le donne sono più sveglie le donne erediteranno la terra e quindi in questo momento nonne e nipoti stanno chattando come diavoli su un gruppo che si chiama nonne alla riscossa grazie mille a modi bis diciamo come grande finale lo figlio Francesco che legge proprio l'ultima pagina del libro che è il modo in cui dico grazie ai miei figli per aver fatto il libro con me e quindi dico stasera e dico grazie a tutti i lettori che ci hanno seguito e quindi dico grazie a voi per avermi regalato questo bellissimo pomeriggio grazie cari ragazzi queste ultime righe le leggerete soltanto stampate non richiedono una vostra risposta e poi se ve le avessi fatte leggere prima mi avreste chiesto di non pubblicarle voglio ringraziarvi per aver accettato di scrivere questo libro con me per voi è stato più difficile perché non siete abituati lasciatevi dire che siete stati bravi questo almeno è il mio giudizio io però sono di parte perché sono vostro padre ma spero sia anche il giudizio dei lettori un po' mi sento in colpa per avervi coinvolti in questo progetto perché prenderete anche voi la consueta dose di ingiurie che accanto a qualche elogio accompagna l'uscita di ogni mio libro in questi anni nel mio piccolissimo ho tentato senza risparmiare le giuste critiche di restituire agli italiani un po' di fiducia in loro stessi e nel loro paese ho pagato un prezzo molto alto per questo perché l'Italia è un paese ormai affezionato all'autocomiserazione credo comunque che ne sia valsa la pena come vedrete anche voi il rapporto con i lettori ripaga degli attacchi ingiusti e gratuiti stavolta la parte del pessimista l'ho fatta io voi avete fatto bene a tenermi testa talvolta lo riconosco siete stati più convincenti di me perché la rete la conoscete meglio e nel vostro mondo nel mondo nuovo i trent'anni che ci separano non sono per voi un limite ma un vantaggio del resto il sogno di ogni genitore è avere figli migliori di lui come dimostrano anche queste pagine per noi per noi ormai è fatta in fondo abbiamo scritto una conversazione sulla famiglia della nostra epoca abbiamo parlato della nostra ma credo che tante altre famiglie si siano riconosciute o possano riconoscersi in quello che abbiamo scritto il grido da cui siamo partiti mette via quel cellulare è condiviso da tanti genitori e da tanti nonni spero che abbiamo dato loro qualche ragione per comprendere perché i figli e i nipoti al cellulare tengono così tanto e anche qualche ragione ai figli e ai nipoti perché passino un tempo migliore con il padre e la madre e i nonni immagino che fare il nonno sia meraviglioso vi assicuro invece che il mestiere dei genitori non è facile ma è il mestiere più importante che vi potrà toccare nella vita perché nella vostra esistenza che vi auguro lunga e felice voi potrete fare qualsiasi cosa ma la più straordinaria e gloriosa saranno senz'altro i figli spero davvero che le vostre previsioni si realizzino e che i miei futuri nipoti troveranno anche grazie alla rete un mondo più umano e più giusto di quello che la nostra generazione ha consegnato a voi nell'attesa vi ringrazio di esservi dedicati a quest'opera comune è stato anche un modo per passare un po' di tempo insieme so che non sostituirà il tempo che il mio lavoro ci ha sottratto quante volte soprattutto per te Rossana che sei nata e cresciuta negli anni in cui ero davvero in giro di continuo per il giornale per i libri e forse ti è mancato un po' l'imprinting paterno anche se poi la genetica è spietata e in alcune cose mi somigli molto tu invece Francesco sei arrivato in un periodo diverso della mia vita in cui ho potuto insegnarti a parlare a camminare svegliandomi tutte le mattine accanto al bambino dolcissimo che sei stato comunque vado sappiate che la regola universale vale ovviamente anche per me aver fatto il padre ed essere vostro padre è stata e sarà la cosa più importante della mia vita grazie ai lettori per averci accompagnato fin qui e per essersi forse riconosciuti in alcuni dei nostri sentimenti nessuno tra coloro che ci ha seguiti in questa conversazione ormai è un estraneo bravo grazie 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 grazie